Un 2024 di grandi opere per Mondolfo e Marotta. Lo annuncia l'amministrazione comunale il sindaco Nicola Barbieri che traccia un bilancio positivo per il 2023 e guarda con entusiasmo e determinazione l'anno nuovo appena iniziato. Gli investimenti in corso sul territorio ammontano a circa 19 milioni di euro e numerosi sono i progetti già realizzati come la nuova rotatoria Marotta, il parcheggio lungo la statale Adriatica, l'adeguamento sismico della scuola Mediafermi e la riqualificazione della scuola primaria Campus. Questo è un territorio vivo che si sta dimostrando, vivo e vivace dove le imprese di Mondolfo e Marotta sono in crescita e sono in corso ampliamente quindi questo è un dato molto positivo per il nostro territorio. Numerosi poi sono gli interventi in corso su tutto il territorio comunale, ha detto il sindaco, che cambieranno il volto della città. Interventi riguardanti il rischio idrogeologico per quanto riguarda la riduzione dei rischi allagamenti nella zona di Marotta Nord e quindi saranno interessate via Corfu, via Ferrari, via Betti e via Martini. Sempre sul rischio idrogeologico abbiamo ottenuto un importante finanziamento per la messa in sicurezza del fosso di Rio Stacciola. Continueranno gli interventi per quanto riguarda la mobilità sostenibile, quindi completeremo il percorso ciclopedonale che collega Centocroci a San Gervasio. Continueranno i lavori realizzati grazie ad un importante finanziamento da parte della regione Marche che sono quelli del ponte ciclopedonale sul Cesano, un'opera strategica anche dal punto di vista turistico che ci permetterà di collegare il lungomare di Marotta con quello di Senigallia. Poi ha continuato il primo cittadino, è in corso il potenziamento delle scogliere per un importo di 1.260.000 euro per la difesa del litorale di Marotta e a breve l'inizio dei lavori per il nuovo asilo a Centocroci. Nella prossima primavera la riqualificazione del lungomare sud dal sottopasso Togliatti. Alle vele in questi anni abbiamo riqualificato il lungomare di Marotta centro e di Marotta nord, ora ci concentreremo sul lungomare sud e la riqualificazione del campo sportivo di Marotta in via Martini. Anche per quanto riguarda l'ASET, 3 milioni di euro per il miglioramento della rete idrica a Mondolfo Centro, a Centocroci e a Ponterio e l'ampliamento del cimitero comunale. Non mancheranno interventi di manutenzione delle nostre strade, del territorio, del patrimonio artistico e culturale come l'intervento di sistemazione dell'abbazia di San Gervasio e anche interventi legati all'illuminazione pubblica e quindi andare ad illuminare quelle strade che sono ancora sprovviste di illuminazione per migliorare la sicurezza.